Stiamo lavorando per realizzare il Dino Park. Un parco a tema da 100.000 metri quadrati da realizzare ad Avellino. Il sindaco Gianluca Festa annuncia in diretta a Facebook il progetto con tanto di manifestazione di un privato già avanzata per realizzare il Dino Park tra i più grandi di Europa, unico al centro-sud. Parliamo di un'estensione di circa 100.000 metri quadrati. Una cosa meravigliosa, straordinaria, bellissima per i nostri figli. Guardate, ci sembra un po' di tornare bambini, guardate. Sarà il primo Dino Park con il 3D, guardate. La Dino Bike aerea, guardate. Ci sono alcuni esempi delle attrazioni che saranno presenti. Luca Cipriano, leader dell'opposizione, smonta l'entusiasmo del sindaco chiedendo rispetto per i morti di Covid, per l'emergenza sanitaria e il tracollo economico delle imprese locali. Purtroppo il sindaco sta trasformando la città in una grande barzelletta. A me dispiace, dispiace profondamente che la città abbia preso questa deriva e che mentre c'è un'emergenza Covid importante, mentre le persone muoiono, mentre gli avellinesi fanno i conti con le restrizioni della pandemia e i commercianti della città sono alla canna del gas perché appunto non si riesce più a lavorare, il nostro sindaco pensa all'Enjoy Arena, ai rosiconi, ai dinosauri. Veramente vive fuori dal mondo. Gli avellinesi non devono farsi distrarre dagli annunci dei dinosauri o più che i dinosauri guardassero a chi su quei dinosauri probabilmente farà palate di soldi.